Con un minuto di silenzio l'Assemblea di Palazzo Lascaris ha commemorato le vittime piemontesi degli incidenti sul lavoro avvenuti nel 2012, con la pubblica lettura da parte del presidente Valerio Cattaneo dei loro nomi, della data e del luogo del triste evento. È stata così celebrata la 63esima giornata nazionale dei caduti sul lavoro, che ha inteso onorare la loro memoria e richiamare l'attenzione di tutti i cittadini su questo drammatico fenomeno sociale. È molto importante per l'INAIL la commemorazione dei morti sul lavoro, proprio per il ruolo che l'Istituto riveste nella materia della sicurezza sui luoghi di lavoro in prima battuta e della cura, della prevenzione e dell'assistenza anche alle vittime degli incidenti. Oggi si parla purtroppo dei casi dei morti sul lavoro, ovviamente l'Istituto ha un grosso ruolo per quelli che sono anche gli infortuni gravi, gravissimi oltre che anche quelli più lievi. Quest'anno è il terzo anno che viene commemorato i caduti sul lavoro e cerchiamo sempre di vedere che le vittime diminuiscano. E per fare questo noi dell'ANMIL, in collaborazione con l'INAIL, portiamo avanti delle campagne di prevenzione nelle scuole, che sono il futuro, sono il domani, sono i lavoratori del domani. E fin quando non si avrà una buona cultura della sicurezza, purtroppo i caduti sul lavoro non diminuiranno. E speriamo che quando si è raggiunto una buona cultura il numero dei caduti non sia più due cifre, ma sia meno.